Sono stati presentati questa mattina dall'assessore al lavoro Monica Bonanno gli esiti del bando di sostegno alle imprese promosso dal Comune per lo sviluppo imprenditoriale nei quartieri disagiati. Una misura finanziata con risorse del Ministero dello Sviluppo Economico per oltre 5 milioni e mezzo di euro è articolata in tre linee di intervento. Circa 3 milioni e mezzo saranno destinati ad imprese già costituite che potranno investire in progetti di consolidamento e innovazione. Il resto dei fondi sarà a sostegno della creazione di nuove imprese. Oggi è un giorno importante per la città perché in realtà comunichiamo gli esiti di un bando avviato a metà 2018 per il quale era possibile avere finanziamenti sia per imprese già costituite sia per creazione di nuova impresa. Abbiamo dato quindi la possibilità a imprese già esistenti sul territorio napoletano di rinnovare la loro infrastruttura e invece a imprese neocostituite o in fase di costituzione di avviare la loro fase di start-up. 229 istanze presentate prevalentemente nelle municipalità 2, 3, 9 e 10. L'età media è sui intorno ai 35 anni quindi a sostegno del fatto che la creazione di imprese ancora affascina e fortunatamente si sviluppa in contesti dove il tessuto produttivo purtroppo ha vissuto una fase di grande degrado, di forte degrado economico e sociale. Sono molte imprese del turismo quindi ricettività e food. Al secondo posto diciamo si collocano i servizi e terzo ma non ultimo l'ICT a sostegno poi dei grandi quattro pilastri individuati dal documento di finanza regionale che appunto individuano nel turismo, nei servizi, nell'ICT e nella moda, il quarto, i pilastri dell'economia del territorio. Grazie. 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 Grazie.